allora signori sto per mettermi a mangiare il riso soffiato con la pasta di pomodoro che mi ha portato il signor Armando Esposito uno di quei ragazzi che voleva che mi ha dato male il signor Armando Esposito nella vita vuole fare il cuoco io gli auguro la migliore fortuna che possa diventare uno dei cuochi migliori in questo mondo che possa fare un suo Masterchef tutto quanto suo allora tornando al fatto qua allora io vi dovevo parlare un attimo del cibo condito con la polvere da sparo però io non ho il cibo da condire con la polvere da sparo però lo so che il titolo faceva un poco riferimento a quello però io ora la polvere da sparo non ce l'ho comunque devo parlare di mangiare stava youtube anch'io che parlava durante mangiare mangiava e faccio pure lo stesso lì allora signore la polvere da sparo quella lì più classica è fatta con nitrato di potassio quella più classica sto dicendo eh carbone e come si chiama azzolfo ma questi tre elementi vengono quella come ho detto quella più classica perché poi ci sono vari tipi di polvere da sparo poi ci sono pure le polvere di flash e altre cose del genere comunque con questi tre molti si condivano il mangiare ma uno pensa ma perché condisci il mangiare con la polvere da sparo no non c'è non dovete pensare che sia chissà ricordare che noi mangiamo pure la calce la nixamalizzazione oppure altri procedimenti del genere no ci ducla a mangiarci pure la calce tipo esempio quando ci stanno le olive top amare si utilizza la calce per levare con l'amaro anche se io le con l'amaro la con l'acqua amara l'utilizzo stesso per condividere il riso io ho fatto degli altri video che nessuno si guarda come nessuno si guarda questo allora tornando a fatti cosa la signori allora queste tre elementi carbone ma poi ci stanno pure altri tipi di polvere da sparo che c'hanno pure più di questi elementi con questi tipi di tre elementi qua no e solitamente sono cose che nell'alimentazione ci troviamo sempre tanto per farvi capire lo zolfo non so se avete presente il cavolo il profumo del cavolo cavolo i cavoletti di bruxelles che ne so dei cavolacci tua quello la quel profumo la lo dà il soffrono di idrogeno lo stesso mi sembra quando faccio un esempio non so se ci avete presente interrompi mi raccomando non so se ci avete presente i botti tipo quelli che si fanno i botti i fuochi artificiali no una volta ne ripigliai uno e sapeva di aglio stanno infatti capire perché quell'odore è l'alimentazione del soffrono di idrogeno dal zolfo combinato con l'idrogeno l'odore delle uova marce sembra un soffrono di idrogeno l'odore della melma sembra un soffrono di idrogeno torna a ripetere quel cavolo il cavolo quello lì cose calca volete il cavolo cappuccio vabbè i cavoli a mano quel profumo proprio che è solfuro di idrogeno perciò zolfo altre cose con cui è fatta la povera sparo quella classica la polvere nera che saprebbe pure chiamata è il carbone signore il carbone non so di quante volte viene mangiato c'è allora per questo è un trucco no per eliminare un poco gli effetti della la puzza dell'alcol dicono di masticare delle pasticche di carbone attivo quelle pasticche di carbone attivo no si assorbono è un poco pure per tipo per le flatulenze dico sempre di pigliare delle pasticche di carbone attivo per fare una combinazione in modo che non ci siano più tutte quelle flatulenze in quella maniera la perché quello poi distrugge pure le molecole vabbè si combina con altre molecole e fa i suoi effetti poi vi ricordano fino a poco tempo fa no ci stava la vendita di tutti quei alimenti tipo da forno farinace no completamente neri perché venivano mischiati proprio con i carboni attivi ma signori ci stanno fatto che molti dicono non mangiare il bruciacchiato che sta tipo uno mangia la pizza ci capita il bordo un po bruciacchiato dicono di non mangiare quella parte la perché ti fa che è potenzialmente cancerogeno ma quello che quella cosa la no finisce che poi vendono proprio i prodotti da forno fatti proprio con quella quel carbone la potenzialmente cancerogeno vabbè questa cosa che bisogna verificare bene per in che misura fa il cancerogeno perché proprio è quella non è qualche altra cosa perché per diventare una cosa cancerogeno c'è bisogno che la cellula debba sballarsi le sue fabbriche interne tipo i mitocondri quando fanno le proteine si devono sballare per produrre qualche cosa ma deve essere proprio il nucleo che sta da sballare è una cellula che c'è una cosa un po complicata poter dire che dico pure l'amianto l'amianto fa venire il cancro proprio perché si fa in un particolato talmente piccolo che va proprio come se io mettessi una chiave inglese dentro un ingranaggio lo fa proprio a sballare e altre cose del genere comunque nella polvere nera e la polvere da sballare ci sta pure il carbone e il carbone pure da qualche parte pure si ci sta da comunque l'hanno levato di mezzo perché disse che quel tipo di perché quello poi è stato classificato come e non mi ricordo qual numero e allora i nastri i carabinieri hanno detto che era fuori legge come colorante e così hanno levato di mezzo tutti questi prodotti da forno neri però nel frattemma la gente se ne mangiare comunque e poi ci sta lo zolfo già l'ho parlato e ci sta il nitrato di potassio allora signori il potassio in vero e proprio c'è il nitrato non so se ci avete presente le carni che vendono tipo la salumiere i bustel altre cose del genere quella è la mioglobina dei muscoli perché la mioglobina sta un poco in tutte le cellule però in tipo in quelle che si muovono hanno deve muoversi molto no c'è bisogno di depositi di ossigeno perché più ci si muove oltre e più si consuma ma siccome il triangolo del fuoco è formato dalla scintilla dal componente dal combustibile ecco come combustibile si utilizza i grassi i zuccheri che fanno pure questi dati posti che poi vengono convertiti in atp e gdp che sono fa l'atp sarebbe una delle quattro base azotate del dna vabbè c'è pure la quinta base azotate perché l'rna ne ha pur una rispetto al dna vabbè poi ci sarebbe comunque produco questa cosa qua l'atp adp gtp gdp gdp e tanti altri perché ci sono qualcuno che vengono prodotti dal consumo di vengono prodotti dal consumo di zuccheri grassi pure proteine che vengono poi scomposti le cose la dieta chetogenica comunque tornando a fatta la e queste qua sono i nitrati no ecco questo stavo parlando allora stavo parlando dei depositi di ossigeno che stanno nelle nelle cellule soprattutto in quelle lì che si muovono tante allora questi stanno messi dentro a la mioglobina che è una proteina alta proprio a mantenere l'ossigeno pronto per essere utilizzato quella si trova soprattutto in animali con le carni detti con le carni rosse comunque se tu questa mioglobina può succedere pure con la l'emoglobina però solitamente per l'alimentazione vengono trattati i muscoli vabbè sta pure il quinto quarto però quella è un'altra questione comunque vengono trattati i muscoli vabbè tanto nessuno sta calentando niente di questa cosa qua devo fare solo sto video per riempire 80 agos comunque allora la mioglobina se viene trattata tipo con i nitrati nitriti come fa il cavallo appunto la canna di cavallo cambia di colore diventa rosata perciò tutte tipo la mortadella e cosa sono tutti quando derivati dai muscoli che sono stati trattati con i nitrati nitriti che sono i sali dell'azoto il nitrato di potassio perché solitamente cose che è un sale e sale di potassio dell'acido nitrico il nitrato di potassio cioè quel potassio è quello che ti dà il gusto vi ho spiegato allora quando uno utilizza il nitrato di potassio della polvere rasparo vorrebbe utilizzare pure nitrato di sodio sta proprio utilizzando quel sale che ti dà il sapore solitamente quando vendono il sale da cucina quello è cloruro di sodio oppure cloruro di potassio se stai parlando del sale dietetico dietetico un bel niente perché il potassio trattiene di meno liquidi tipo del sodio comunque entrambi il sodio sostiene che c'ha le molecole più piccole di più da una cellula il potassio invece c'è una molecola più grande che fa un po più difficoltà a entrare in una cellula comunque il potassio solitamente è quello che dà il sapore ai cibi questo volevo arrivare a dire a finalmente non so se c'è presente il glutammato di sodio oppure glutammato di potassio quelli la sono derivati dalla lavorazione di alcune piante che vi ricordo che comunque tutte quante le cellule di questo mondo tutte le cellule viventi fanno soltanto da acceleratore ai normali processi chimici che per entropia si fanno sempre per chi è esperto l'ha capito subito questa cosa per chi non è esperto non ci sta capendo un cavolo non ci posso fare comunque condire il cibo con la polvere da sparo non è una cavolata è qualcosa di fattibile mi sono spiegato eh si sa quante cose magari nessuno se le guarda sti cosa ho detto chi capisce capisce chi non capisce continua a non capire bisognebbe fare un bella cosa qua comunque ringrazio sempre armando e giuseppe pare detto il biondo che mi hanno portato a mangiare e magno questo qui contiene acido l'ho visto no che contiene acido dove c'è lo sta scritto qua da questi ingredienti si ingredienti in italiano ecco qua pomodori pelati indieli succo di pomodoro correttore di acidità acido citico l'acido citico non dovete pensare alle spremute di limone dovete pensare cose tipo la barbietola da zucchero che viene lavorata per poterci pulire l'acido citico e lo zucchero questa è una delle lavorazioni perché per fare il correttore di acidità per dargli un sapore un poco più che alla gente possa piacere mangiamo che secondo me tassi 13 minuti ho rotto soltanto l'anima danni saluti e vota omar buono buono passaggi e vota omar